ragazzi sono un'autostrada che sto viaggiando a velocità ridotta per fortuna c'è lei che si arrangia nelle frenate e ripartenze che sono qui la macchina adesso è ferma metto grand'angolo così vedete come si gestisce lei frenata e ripartenza in coda è veramente molto molto comodo ma com'è che ogni volta che sono su una colonna si muovono sempre le altre la mia mai che velocità spericolata a 9 chilometri orari 8 9 10 11 12 11 10 9 ragazzi sto impazzendo